Markle, messaggi segreti nella foto del battesimo di Archie. Coinvolta anche Kate. La foto ufficiale del battesimo di Archie rivela che Meghan Markle e Kate Middleton non si sopportano e Harry e William sono in rotta, mentre c'è un'assenza pesante. Meghan Markle e Harry hanno deciso di condividere solo alcune foto ufficiali del battesimo di Archie. Si tratta di immagini posate, realizzate dal fotografo Chris Allerton, studiate nei minimi dettagli. Eppure a sguardi attenti ed esperti non sono sfuggiti segreti rivelatori di quanto sta accadendo all'interno della famiglia reale e in particolare nel rapporto tra i duchi del Sussex e Kate Middleton e William. In assenza della regina, alla duchissa di Cambridge è dato l'onore di sedersi sulla sedia accanto ai genitori del battezzato. Camilla siede al lato opposto. Le due donne infatti sono destinate a divenire sovrane e consorti d'Inghilterra. Lady Middleton sorride guardando l'obiettivo, ma sembra sul procinto di alzarsi, come se volesse fuggire dalla stanza appena possibile. Non è rilassata come la moglie di Carlo che posa tutto il piede per terra e tiene le mani intrecciate in grego. Kate appoggia solo le punte dei piedi sul pavimento, le mani una sopra l'altra, pronte a essere posate sulla sede per alzarsi. Insomma, dà l'idea che non abbia voglia di essere lì, in presenza di Meghan e Harry. William in piedi, dietro la moglie, ostenta un sorriso non troppo convinto. Fin troppo impettito, risulta rigido e naturale. La sua posizione è piuttosto forzata. Anche nel suo caso, pare insofferente. E poi c'è quella sopracciglia alzata che dà un senso di critica e disapprovazione. Nella foto compaiono anche le sorelle di Lady Diana. Ma perché il fratello della principessa, Charles Spencer, non è presente? Lui che è sempre stato molto vicino ai nipoti William e Harry. La spiegazione si troverebbe, riporta l'Express, in antichi rancori risalenti al funerale di Lady Di quando Charles fece un discorso che irritò profondamente Elisabetta tanto da definirlo folle. Infine, un altro dettaglio rivelerebbe che la foto, è stata scattata ore prima della pubblicazione su Instagram. Infatti l'orologio che compare nel ritratto segna le 11.54, ma le immagini sono state pubblicate solo alle 16 ora locale. Dunque, Harry e Meghan hanno deciso di far trascorrere molto tempo prima di rendere partecipi sudditi e fan del battesimo di Archie. Ancora un'altra delusione. Ancora un'altra delusione. Ancora un'altra delusione. Ancora un'altra delusione. Grazie a tutti